Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki Ehi, sono Steph, e qui si chiama Sneak Thief E ovviamente siamo tornati su questo fantastico gioco Dato che il primo episodio ha spaccato in una maniera assurda Ha raggiunto la bellezza di 1500 likes, ma ci credi? Secondo me c'è un motivo I consolini sapevano che questi erano i livelli più semplici E che quei prossimi impazziremo, quindi non ha fatto apposta Infatti, infatti noi lo continuiamo subito per vedere giustamente se siamo dei bravi ladri Dato che ora inizieranno i livelli davvero complicati Infatti guarda, normal, normal, normal e poi hard Hard nel prossimo episodio sarà davvero complicato The Collector, io non ho idea di che cosa aspettarmi Cioè ti ho scritto new, quindi credo che sia l'ultima mappa fatta Ma noi andiamo in ordine verso il basso Quindi dobbiamo fare questa Giustamente, giustamente È una paura incredibile Però iniziamo e vediamo che cosa succede Iniziamo ad ambientarci Vedere un po' cosa abbiamo attorno Mi raccomando, ti voglio con i consigli bellissimi che solo tu sai fare Perché altrimenti qua siamo messi malissimo Giustamente, guarda, sono anche vestita un po' da ladro, non ti sembra? Un po' da ladro Ehi, sì, senza farla apposta sono proprio entrata nel vivo del gioco No, io invece sono carino e basta Allora, allora Cioè cos'è questo posto secondo te? Un posto che non mi piace È un posto enorme I consolini sanno che abbiamo avuto una brutta esperienza con la mappa al buio Quindi tornare in un posto buio A me sembra un magazzino questa volta però Più che una casa A me sembra una villa A me sembra una villa C'è una di quelle ville incredibili, enormi Allora Sì Anziché Aspetta, hai visto che c'è un martello? Dov'è? In terra Non l'avevi neanche visto? No, bravissima Non è neanche un martello Ah sì, sì, è un martello Oh no, no, no Ci sono le guardie Non è una villa No È un museo Esatto È un museo Già Oh cavolo Ci sono le guardie che vanno in giro No, vabbè Sì, 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 sì Buongiorno Ok, ok, ok Siamo dentro Siamo dentro Ok, ok, ok Il primo posto è andato Sì, non male, non male Aiuto No, c'è un ansia incredibile perché ho paura che mi appaia qualcosa dietro all'improvviso Eh no, 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 no Scusi Non è il benvenuto qua Non è il benvenuto Scappa Scusi, pensavamo che fosse ancora aperto il museo Volevamo semplicemente fare un giretto Esatto, esatto, esatto Un giretto esclusivo Non potevamo? Va bene, ce ne andiamo allora Grazie per l'informazione Grazie, arrivederci Arrivederci È chiuso lì Non ci fanno neanche uscire Penso che ormai ci inseguiranno all'infinito Allora, andiamo di nascosto In silenzio Allora, hai visto che c'era una luce dietro? Chiudi, 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 chiudi Ok, ok, ok Bisogna fare attenzione Come non detto Ma, come ha fatto? Allora, ti stavo per dire Ti schivo, ciao Ti volevo dire Come facciamo a spaccare le cose senza fare rumore? Non è la più pallida idea Perché per me il problema è lì Capito? Allora, se ci hanno dato un martello Sicuramente lo dobbiamo spaccare Sì Perché altrimenti Come facciamo a fare le vetrine? Non abbiamo altri materiali Esatto Quindi non lo so Io ne metto un po' di cose le sto arrafando Comunque Anche questa potrebbe essere un'idea Cioè, mentre giri in tondo Prendere il più possibile Visto che non hanno le pistole Ne approfittiamo Guarda, abbiamo già fatto 30.000 Però ce ne servono 600.000 Questo piatto, grazie 130.000 Wow Eh, valgono tanto È bella Scusi Grazie Arrivederci Io non ci credo che abbiamo fatto No È che bello Il livello è crashato Praticamente fa un errore Andiamo in quello dopo Lo yacht Ci tocca saltare il museo Ci stavo prendendo gusto A correre con loro Che mi seguivano Il fatto è che era fantastico Avrei voluto troppo rubare in un museo Cioè, era fighissimo Come era fatto Invece ci abbiamo anche riprovato E crasha nuovamente Quindi ci tocca saltarlo Poi se lo sistemeranno Lo proviamo magari più in là Lo riproviamo Comunque ovviamente yacht Quindi dovremmo rubare In una barca Fighissima Guarda, siamo arrivati col gommone Col gommone in silenzio Capito? 100.000 Ok Infatti fa ridere che non c'è la macchina Ma te ne devi andare in gommone Capito? È bellissimo Ci dobbiamo adattare alle zone Capito? Perché noi siamo dei ladri esperti Ma scusa un attimo Cos'è il Titanic questo? È uno yacht Come fa ad essere uno yacht così grande? Guarda che bello Guarda, è troppo grande Sembra un transatrante Uh, ma che c'è una piscina? Uh, bello L'idromassaggio Sì Non c'è l'acqua Ci mettiamo qui a riposarci Grazie Uh, per la tv Prendila Uh Eh, no Non ci serve No, aspetta Lì però c'è un bel cellulare Prenditelo No, allora Noi vogliamo fare tutto Senza uccidere le persone Perché è più difficile Non farsi beccare Che ammazzare le persone Prendiamo lo smartphone E la tv Dopodiché sappiamo Che una guardia Arriva da lì Quindi noi andiamo Qui dietro Qui E spera per il meglio Che non arrivi qualche guardia Ok, vabbè Tanto dobbiamo soltanto Imparare come si muovono Quindi Esatto Bisogna Ok, l'ho visto? Sì, l'ho visto Perfetto Ok, piano L'orologio L'orologio Veloce Devi essere svelto Ho capito Tutto quello che ho vedito Lo devi mettere in tasca Sì, però Stavo cercando di capire Come possiamo entrare No, no, no Eh, ma sei un disgraziato Ma scusami Da qua Ok, si entra da qua In questa parte Eh, ma quanti orologi Avete in famiglia Beati Bellissimi Così in giro Bellissimi Ok, vedi Vedi, vedi Come gira Tu vai Io andrei qua dentro Vai, vai Allora, muoviti Chiudi E spera che non entri nessuno Prendi tutto quello che puoi prendere Niente Ma questa è la cabina di comando Eh, beh, giustamente Sì E possiamo fare qualcosa? No No Pensavo magari di bloccare le porte Capito? Per esempio Ma non c'è nulla, davvero No No In questa cabina che sembra così grande Niente Totalmente inutile Peccato, peccato, dai Proviamo da qua In effetti c'è una porta davanti Chiudi, chiudi Allora, prendi questo Sicuramente vale un sacco Guarda che bello Però è la cosa più di valore Che abbiamo trovato Bisogna capire Se quella guardia Che vedevamo che scendeva Vuole scendere di qui Capito? Eh, non lo so Cosa sono? Non lo so Tu prendi, vabbè Pizza? Non è che nascondono qualcosa Sotto i cuscini? No, non perdere tempo Tu prendi solo le cose che vedi Perché dobbiamo Io nasconderei le cose sotto il cuscino Eh, ma dobbiamo essere veloci Quindi se vi interrubare da noi Controllate sotto i cuscini Eh, le tue caramelle Ci sono sotto i cuscini Guarda, sti zitto Sono la cosa più di valore Concentrati Non pensare a sciocchezze Concentrati Ma c'è poca roba Ok che dobbiamo fare Solo 100.000 Siamo a 40.000 Eh, però Il quadro Ok Siamo già a 40.000 Il lampadario Questa la possiamo prendere Dato che ci siamo Le porte Ok abbiamo capito che qui non entrano La porta più difficile sarà di nuovo uscire Sì Tranquilla Vai, vai Allora chiudi Chiudi subito la porta Perfetto Che posto è questo? Non lo so Non so dove siamo Come? Chi c'è? Da davanti o da dietro Scusami Ma com'è possibile? Non c'è nessuno Ok è stato un bug Ok Ok Siamo sicuri? Sì Ho capito adesso Vedi? Vedi? Avevo ragione Ci sono le trappole Salta Allora Oh mamma mia Mi viene ansia Salta Ok Vedi? Vedi? Te l'avevo detto che avevo notato delle leve Sono dei disgrazi Le possiamo disattivare? No Rimane così Sì Allora prendi i documenti C'erano dei documenti in terra Allora un attimino Un attimino Piano piano Vedi? Vedi? Ok No è pieno di trappole Ok Allora Qua cos'è? Non lo so Penso che sia Semplicemente Dove devi visti i documenti? In terra Ok perfetto Anche questi valgono abbastanza Quindi sinceramente Io prenderei tutto 6.000 6.000 Esatto Mica male Dopodiché Ok Allora dobbiamo sicuramente sapere la combinazione Che non sappiamo Sì Allora Allora Quattro cifre A numeri Ma dai Ma abbiamo spostato Cioè io mi dico Prima abbiamo lanciato la pizza Non abbiamo notato il codice Comunque 5342 5342 Lo devo memorizzare Ok Ok Quindi vedi la stanza giusta Era quella sotto Avevo ragione io Che bisognava andare prima sotto 5 Comunque dai 5 4 2 5 3 3 4 4 2 Ok Ci stavo per far andare sulla trappola Allora Guardiamo cosa c'è Uh Sacco di lingotti d'oro Vai Grazie Prendi Prendi Ciao vai Grazie per i soldini Ruba tutto Ruba tutto Ho paura di toccare sotto Guarda Siamo già a 100.000 Cioè bastava solo la cassaforte Sinceramente Ok Allora io dirai che ce ne possiamo andare Tanto comunque non c'erano cose di troppo valore nelle stanze Prendi anche i documenti Hai ragione Hai ragione Così arrotondiamo a qualcosa in più no? Eh oh Facciamo un regalino Quasi 110.000 quindi Allora concentrati Non puoi morire in questa trappola Allora la riuscita di questa missione dipende solo da questo salto Quindi concentrati Lo sto visualizzando Visualizza il salto Ok E vai Ok Vado Aiuto Guarda mi stai facendo venire un'altra forza No Hai citato perché era impossibile No no Ho notato che si spiaccica sul muro e poi scende Era fatto apposta Allora anche adesso è molto importante Se apriamo la porta e abbiamo la guardia di fronte e siamo fregati Io esco e corro Ok Ok Vado Vado Adesso a sinistra Scegli una direzione No allora prima apri Apri Open Adesso a sinistra Non lo so Veloce? È stato terribile È stato terribile Hai capito Fino probabilmente a The Diamond Ace È quella dove rappini di più E quindi era la più epica Dai Sì assolutamente È un peccato che l'aveva una bagata Andiamo Guardia Guardia Si muova per fare il giro di per le spazio È in ritardo Magari andate un attimo in bagno Eccolo 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 Andiamo 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 Ok Perfetto E noi Eh no però non ti far beccare Entra e chiudi Tranquilla Dobbiamo andare Al piano di sopra No Proprio Ma dai ma Tra tutte le cose che poteva trovare La cucina Allora Cerchiamo di salire al piano di sopra Dammi una mano Ok Qui No Dove sono le scale Eccolo 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 Perché al piano di sopra Vedi c'è tipo la tv Così Molto bellina Però qua non c'è nulla a livello di museo Sembra più una casa Però vabbè Dai ci sta Ci sta Puoi rubare tutto Magari il proprietario del museo Che poi ci vive sopra Ma questi Sembrava fosse uscito dal Dall'armadio Magari ti ci puoi nascondere Capito Ah hai ragione Sì Sì È vero potrebbe essere un bellissimo Questa è chiusa Quindi bisognerebbe trovare anche una chiave Vedi che sarebbe una figata a questo livello Certo che è bello Ma è ovvio È un peccato incredibile L'abbiamo seminato? Boh Sembrerebbe Secondo me no Allora Qua cosa c'è di bello? Ok 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 Buongiorno Sì 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 ha ragione Ha ragione Adesso andiamo via È tardi Ha ragione È ora È ora di chiudere Siamo fuori dall'orario di chiusura Quindi c'è Ma aspetta Vedi c'è anche da disattivare questo Ma neanche c'è frega Tanto 325.000 Tanto siamo lì Per essere sparati Quindi pazienza 330 Non ci sta crashando Io non voglio portare Sviga Però ci stiamo avvicinando E 600.000 Tutto in corsa Scusi Tutto in corsa È la rapina più brutta Che potessimo fare È vero Dico la verità È la rapina più brutta Che possiamo fare Perché è davvero terribile Allora facciamo finta Che ce ne andiamo Grazie Comunque Di fatto 460.000 Ce li siamo presi Ma secondo me Ce l'avremmo fatta Anche a finirlo Aspetta Infatti ci provo Ci proviamo Ci stiamo provando davvero Li stiamo soltanto attirando fuori Capito A vincere i bug del gioco Adesso rientriamo così Ci prendiamo Questa Ok Ci mancano 40.000 No ce la facciamo Ce la facciamo se non crasha Non devo Non dirmelo Non dirmelo Non devo entrare nelle stanzine Prendi qualcosa di No Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato a finirlo 40.000 Ne mancavo No io non ci credo Dai lo consideriamo fatto Ci mancava davvero 40.000 Non abbiamo scoperto Come si disattivava nulla Non sappiamo niente Tutte le stanze Però l'avamo finita Un po' l'esternativo di rubare Cioè chi è che dice Che devi fare sempre tutto bene Di fatto le guardie Non ci stavano prendendo Se non fosse crashata Avremmo continuato a girare Con le guardie che ci inseguivano E ce l'avremmo fatto Cioè sarebbe stato fantastico peccato Perché è davvero divertente Abbiamo trovato un nuovo modo di rubare Anche quello sì Quando non hanno le pistole Basta essere velocissimi Corri 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 Però No è un peccato Mi sembra una bella resistenza Di forza Era un bel livello Vabbè peccato che crasha Comunque ci fermiamo così Per questo video Manca soltanto l'ultimo video Dove dovremmo rapinare Una super villa gigantesca E infine dovremmo rapinare Dei diamanti Credo in una gioielleria Immagino Perché è l'unica cosa Che in effetti ci manca Quindi non vediamo l'ora Di fare l'ultimo episodio Lasciateci tanti like Se vi è piaciuto questo episodio E ci fermiamo così Bene che se vi è piaciuto Se vi è piaciuto questo episodio Se vi è piaciuto un like E questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao